Lecco perde la sua nonna Gina, si è spenta Virginia Favaro Lanzetti, classe 1927, portavoce per generazioni della cultura popolare lecchese. Scrittrice e poetessa, nonna Gina ha saputo raccogliere e dare dignità alle nostre tradizioni, contribuendo anche a salvaguardare, insieme ad altri appassionati, il dialetto e la cultura popolare. Per noi bambini, bambine, era un piacere scendere di cosa, pensi, dalla via Mascheri si faceva giù le scalette al viclo Granai, fuori il viclo Granai, si attraversava la piazza Cermenati senza preoccupazione di macchine e giù la riva del lago si saltava dentro nell'acqua. Allora queste lavandaie si arrabbiavano, ecco, mi sporca l'acqua, cioè ci sporcate l'acqua, era tutta lì l'acqua sporca. Quello che facevamo noi ragazzi buttando per aria un po' la sabbia del fondo, ecco. Possiamo dire che sua nonna è stata una lavandaia, abbiamo qui una testimonianza fotografica, questa è sua nonna? Questa è mia nonna, ecco, appunto dicevo, c'è chi vanta dame e cavalieri, io vanto una nonna lavandaia che mi ha tramandato tanta onestà, tanta sincerità e tanto amore delle cose belle e della mia città. A ricordare la sua figura anche Claudio Dossi, presidente di Auserlecum. Per 15 anni spiega nonna Gina accompagnato il coro di Auserlecum nelle scuole e nelle case di riposo per recitare le sue poesie in dialetto. I suoi funerali si terranno giovedì 10 febbraio alle 10.45 in Basilica di San Nicolò, poco distante dalla casa di Ringhiera di Via Belvedere, dove ha sempre vissuto. A Nanni Svamba, la frase che mi diceva prima. Ah beh, tra l'altro, a parte che lui parlava in milanese, lui diceva, mi chi me trovi bene? Perché che la casa chi di Ringhiera, la propria elfa di chi cade una volta, induca se sei l'umanità che vive. Grazie a tutti.